E' un posto dove tu e i tuoi amici potete stare a lungo, un posto dove puoi trovare un posto da fare e per i bambini che non sanno dove tornare, un posto da chiamare casa, questa è Fairy Tail. E' un posto e i tuoi amici Woooo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.